ciao ragazzi benvenuti a tutti in un nuovo video ragazzi io sono Foxy oggi in questo video parleremo di eolico ragazzi guardate che bella questa pala eolica ragazzi sotto in descrizione vi lascio il link con lo sconto riservato a tutti voi allora ragazzi questa pala potete acquistarla con in corredo il regolatore ok perciò vendono la pala sfusa e più mppt controller o mppt controller e con diciamo l'ibrido cioè qui puoi andare a collegare anche dei pannelli solari fotovoltaici questo ragazzi per fare un bel impianto ibrido fotovoltaico eolico 12 24 volt in base al modello e qui abbiamo delle foto di massima del nostro componentario cavo ibrido controller ibrido qui abbiamo le specifiche tecniche abbiamo il nostro grafico dove ci fa vedere che con 14 metri secondi abbiamo una bella potenza di 800 watt continui poi abbiamo un altro schemino schemino qui che ci indica la nostra pala il controller eccolo qui la batteria perché ovviamente ragazzi i controller che siano questo che sia questo servono per ricaricare che cosa una bella batteria che sia lidio che sia piombo che sia gel poi comunque tutto sta cosa voi volete andare ad acquistare da utilizzare le dimensioni sono 53 centimetri come diametro altezza 75 centimetri da qui a qui e da qui a qui bene eccola qui e qui abbiamo ok guardate i dettagli bellissima ragazzi davvero bella qui ci fa vedere il nostro generatore eccolo qui che ovviamente nella parte sotto della paleolica qui qui dentro si nasconde il generatore e qui abbiamo eccolo qui il sistema di fissaggio a supporto palo qui abbiamo altre foto davvero belle dove ci mostrano la qualità del prodotto offerto dallo sponsor ti ripeto trovi in descrizione il link con lo sconto riservato ancora foto ancora foto bella anche la verniciatura possibilmente anche tutto bianco non sarebbe male ecco personalmente io li preferisco questi generatori tutti bianchi così all'occhio danno forse meno fastidio e qui abbiamo eccolo qui il controller ibrido bello con anche il resistore che questo qui ecco questo serve come freno va accablato tutto qui qui metti i pannelli qui metti i poli del generatore eolico qui metti la batteria e qui e qui metti questo invece qui è tutto più semplice 8 vai a cablare i tre cavi del generatore poi abbiamo in uscita un positivo e un negativo ma questo serve solo per la pala ragazzi qui non potrai andare a mettere il fotovoltaico cosa che invece qui dei pannelli puoi sempre andarli a mettere perciò per un piccolo impianto questo va più che bene e niente ragazzi per l'assemblaggio ovviamente arriva tutto smontato è così come vedi tu dovrai andare a fare l'assemblaggio delle varie parti finito il tutto vai a fissare il tutto su un supporto che andrai a fare ex novo ovviamente e la paleolica andrà a girare sfruttando il vento ragazzi per questo video è tutto io ti ringrazio sotto in descrizione link iscriviti al canale abbonati se vuoi seguirmi se vuoi supportarmi in queste belle avventure ti invito anche su tik tok ti invito anche sul gruppo facebook fotovoltaico eolico fai da te italia ciao belli al prossimo video